Prosegue il dissing tra Lele e Wide, con un Lele che risponde senza mezze misure. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. La casa era la casa di White, l'ho detto tutto, quindi non ne parliamo più. Tanto l'ho bloccato su Instagram, l'ho bloccato e boh, per me è finita qua. L'ho bloccato su Instagram e basta. L'ho bloccato, no, è nato sì, perché mi seguiva. Comunque, è il braccio destro, eh sì, è il braccio destro di Dunkle, ecco, perché... Stai un po' credito, no? Eh, io non vado più da nessuna parte, né da Dunkle né da White, anche se mi invita, dico, vaffanculo, White, per il cazzo che vengo. Perché lo dicono tutti, ma io sono il volto, sono il volto di Twitch, sono il futuro di Twitch, quindi tutti parlano di me, buttando merda, però parlano di me.